Qual è il nostro rapporto con le immagini oggi? Come accediamo alle informazioni? Che rapporto abbiamo con la nostra realtà? Sono queste le domande a cui questa mostra vuole rispondere. La Game Engine Culture oggi determina tutte le nostre azioni, determina il modo con cui noi accediamo a qualsiasi informazione. Quando usiamo Instagram o qualsiasi altro dispositivo stiamo usando un processo di Game Engine. I Game Engine erano software creati per i videogiochi che sono stati ribaltati oggi e soprattutto dopo la pandemia in quegli strumenti che determinano tutte le nostre azioni e stanno modificando anche il modo con cui noi pensiamo, interagiamo e vediamo il mondo. Questi artisti lavorano su questo concetto di una vera e propria Game Game Engine Culture da differenti punti di vista, quindi da punti di vista più politici, punti di vista più di attivismo politico anche, ma anche punti di vista più teorico-filosofici più ampi come l'antropocene, il post-antropocentrismo, il rapporto con la natura, il rapporto del gender anche, come anche il rapporto, l'idea di nuove macchine intelligenti che possono e che stanno sempre più vivendo con noi e anche il rapporto con il passato come in queste sculture che vediamo dietro di me. Grazie a tutti! Grazie a tutti!